partiti si assessa al comando all'inizio della curva prosegue in vantaggio Kuznestov davanti a Lorando Hilenin, Mildeby, Budweiser, Quantum Ossolange, Tuerredda e Tappingo poco prima dell'ingresso addirittura in vantaggio Kuznestov davanti a Lorando Hilenin, Mildeby e Budweiser i cavalli entrano in dirittura con Kuznestov in vantaggio lungo la corda Kuznestov davanti a Lorando Hilenin, Budweiser, Tuerredda centropista, Quantum Ossolange, Tappingo e Mildeby e in leggero vantaggio Tuerredda centropista davanti a Budweiser, Quantum Ossolange, Lorando Hilenin, Mildeby e in vantaggio Tuerredda davanti a Budweiser e Lorando Hilenin resiste Tuerredda davanti a Budweiser, Quantum Ossolange e Lorando Hilenin e in leggero vantaggio Grazie 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 a tutti.